A Mirabelle Clano si attende la stretta finale sul progetto per costituire il consorzio naturale e commerciale. Gli obiettivi da raggiungere sono la promozione di azioni a sostegno dell'associazionismo tra imprese, del sistema distributivo tradizionale, anche al fine di condividere attività e servizi in comune, avviare un processo di rigenerazione e rilancio delle attività imprenditoriali presenti nel contesto urbano e rivitalizzare il tessuto urbano e commerciale. Al momento si stanno susseguendo una serie di riunioni interlocutorie fra gli attori coinvolti, ma si registrano anche le prime fuoriuscite, come quella dell'ASCA, che definisce il progetto senza lode e senza infamia. Parlare di consorzio in questo contesto è oramai superato, sostiene il presidente Vincenzo Imbriano. Non riusciamo a mantenere le singole attività, figuriamoci a sostenere i costi di una struttura consortile. Noi siamo stati sempre fautori di creare i centri e i consorsi commerciali, però il contesto adesso è cambiato notevolmente da quando noi lo proponemmo nel 2009, perché l'economia era più dinamica in quel periodo. Non si stava attraversando una crisi come questa. Adesso purtroppo è cambiato proprio completamente il quadro, quindi non potrebbe essere solo un palliativo al nostro giudizio, anche perché poi come si sta mettendo in essere, a Mirabella ci sta una geografia commerciale diversa con le frazioni, quindi la nostra idea era quella di abbracciare tutto e non soltanto una parte, perché non si potrebbe giustificare, altrimenti di poter essere coesi con tutto il sistema commerciale. Quindi l'idea era allargare il bacino d'utenza? Sì, questo sì, perché Mirabella non è solo Mirabella Centro, anche perché poi ci verrebbe difficile far parte ai nostri iscritti che fanno delle frazioni limitrofe, per poter, se si fa un evento, faccio un esempio, soltanto a Mirabella Centro, loro non hanno interesse a partecipare economicamente, che rientro avrebbero da questo punto di vista. Se dall'Auto 15 c'è una proposta che arriva dall'amministrazione comunale per aiutare il commercio, c'è poi un governo che sta per votare la prossima finanziaria, quindi anche con l'aumento dell'IVA? Sì, a questo mi riferivo prima, perché purtroppo in questo ultimo governo ci sta penalizzando tantissimo le nostre PMI, adesso ci sarà l'aumento dell'IVA, anche con queste nuove leggi che hanno fatto il fatto che non si può pagare a 30 giorni forniture alimentari, c'è un'azienda che sopravvivevano proprio per la dilazione dei pagamenti, non andavano a chiedere soldi alle banche per questo motivo, non hanno altri oneri, quindi l'hanno messa a 30 giorni, poi il sistema contrattuale che si chiede, ma la cosa peggiore sarà l'aumento dell'IVA che farà diminuire ancora i consumi, perché i prodotti di prima necessità aumenteranno, perché aumenteranno parecchia su tutte le aliquote di un punto, quindi ci sarà ancora una contrazione dei consumi. in merito alla questione... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!